Benvenuti a tutti a questo mio nuovo video, oggi torniamo con le novità per quanto riguarda le uscite on video anime Ed è direi di incominciare, incominciamo dall'episodio speciale che è chiamato doppiato di Dirty Conan Penso che questo sicuramente lo vedrete, probabilmente l'unboxing potrei farlo tra aprile e maggio, penso Penso più maggio comunque perché purtroppo ho tante cose da comprare, non solo anime tra una cosa e l'altra Poi sempre lo stesso mese, marzo, uscirà il primo cofanetto dei film tv speciali Lupin Stesso prezzo quindi 54,99, 55 euro e uscirà anche con l'edizione speciale con un action figure Vabbè, poi Coach Media, vabbè, Play On pubblicherà, se non mi sbaglio, ad aprile, il 20 aprile, sì Questo film qua che non conosco e questo penso lo dovrei unboxire quando esce Cioè penso che farò il pre-order poi nelle prossime settimane e lo vedrete come unboxing più o meno subito sul canale Tra l'altro vi sto mostrando che appunto non è un'esclusiva fanfactory ma il pre-order è disponibile anche in tutte le altre piattaforme di e-commerce Poi il 26 di aprile esce anche la seconda stagione di Made in Abyss Tra l'altro come potete notare rispetto a quello che costava del listino la prima serie ovvero 50 qui è aumentato di 5 euro Però vabbè, non è un aumento così netto quindi ancora ancora ci può stare come il prezzo Anche questo non lo prenderò subito in questo caso in particolar modo per colpa di Metroid Prime Questo ve lo posso dire Però penso che anche questo lo vedrete comunque nel corso dei mesi come unboxing sul canale Poi, unica uscita di aprile di Yamato, non ci sono altre uscite in quel periodo Se di Yamato Video, questa qui la calazzata speciale di Yamato Un cofanetto con diversi film e 5 DVD da quello che ho capito Vabbè, 50 euro, non so quanto sia un prezzo onesto però È per quello che tiene offerto visto che stiamo parlando di DVD Però vabbè Boh, non lo so Vabbè, concludiamo con il terzo cofanetto di Hunter Hunter È stesso prezzo del primo Però se non mi sbaglio la seconda stagione avrà un prezzo più alto come listino Adesso controlliamo, va, lo facciamo in diretta Così, per curiosità, perché qua Tra l'altro aspetta 69, 70, 80 Cioè, quasi 30 puntate ci sono in questo cofanetto Sa perché più puntate prezzo di listina inferiore? Boh Perché mi ricordo Aspetta, no, qua non sta uscendo Perché poi Cioè, perché non cercarlo io? Vediamo un po' Perché mi sembra un po' strano Vediamo se mi sbaglio che il secondo di listino è tipo 59,99 Il secondo cofanetto che uscirà fra qualche giorno Che Eh sì Vabbè Perché, chissà perché Vabbè Chiaramente anche questo vedrete sul canale Ma Come Chi segue il canale da un po' Sa che il primo non mi ha fatto impazzire Che quindi Li prenderò Quando scendono i prezzi È anche di parecchio, diciamo Perché Per come è questa edizione Il prezzo Cioè A livello di quantità I prezzi sono giusti, per carità Ma per come sono fatti Secondo me In parte anche il gusto soggettivo Non ne vado pazzo E quindi Aspetto che calgano di prezzo Dando precedenza ad altro Ma vabbè Di questo ne abbiamo anche già parlato Detto questo Iscrivetevi in più al canale Dite cosa ne pensate di queste uscite Creiamo un po' una discussione Nei commenti Dite cosa comprerete Insomma Creiamo un po' una discussione Nei commenti Ci vediamo al prossimo video Alla prossimo video Alla prossimo video